Uwewe ragazzi e bentornati! Oggi vedremo il rapporto di stato a casa base del 12 maggio 2020 Salve comandanti, ci sono altri pirati all'orizzonte, proteggete il vostro bottino! Eccoci con il secondo aggiornamento contenuti per quanto riguarda Salva al Mondo della versione 12.50 Le novità sono tra virgolette parecchie quindi mettiamoci subito al lavoro Ibrido il Drago arriva nel negozio evento, diventa il Drago Ibrido il suo vantaggio standard Fuoco del Drago Incrementa la durata del Tormento del 34% mentre il suo vantaggio comandante incrementa la durata del 67% In più Squarcio del Drago applica Tormento che infligge 15 danni da fuoco base al secondo per 3 secondi Ibrido sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 16 maggio alle 2 ora italiana fino al 20 giugno Ibrido comunque non è un eroe nuovo, infatti lo abbiamo già visto un anno fa Poi aggiornamento Salva al Mondo versione 12.60 Hey eroi sono Clip, ho apportato alcune modifiche alla cadenza di tiro e a ciò che comporta per le vostre armi Ora il vantaggio cadenza di tiro fornisce un ulteriore vantaggio alle vostre armi caricate Adesso se un'arma caricata gode del vantaggio di cadenza di tiro La quantità di tempo necessaria affinché l'arma raggiunga la carica massima è molto ridotta Ecco un elenco delle armi interessate da tale modifica Tutti gli archi ad eccezione delle balestre, attenzione Il lanciarazzi mitico, quindi il dispositivo di lancio re della tempesta Il trapassa laser Il crescendo Il lanciatore nobile Il monsone Il fucile di precisione tubo a vuoto Festa doppia per le armi caricate con cadenza di tiro incorporata Il vantaggio cadenza di tiro incrementa la loro cadenza di tiro effettiva E riduce il tempo necessario affinché raggiungano la carica massima Inoltre abbiamo aggiunto vantaggio cadenza di tiro ad ogni arco E abbiamo aggiunto due vantaggi cadenza di tiro al crescendo Dateci dentro comandanti Quindi come voi tutti avrete ben capito Questi vantaggi vanno molto a migliorare la nostra qualità di vita per gli archi Per gli archi ma anche per il lanciarazzi mitico eccetera eccetera Però diciamo che secondo me il maggiore focus la epic l'ho voluto concentrare per appunto gli archi Poi seawolf jonesi arriva con la marea Sono a caccia di tesori e di abietti Il suo vantaggio standard Alta marea aumenta i danni da onda d'urto del 55% Mentre il suo vantaggio comandante aumenta i danni d'onda d'urto del 55% Inoltre l'onda d'urto si attiva un'altra volta subito dopo essere stata usata Descritto così comunque è una perk nuova Avevamo il vantaggio squadra di onda d'urto che si ripristinava mi sembra quando ci rompevano lo scudo Ma non sono molto sicuro adesso vado subito a vedere Ed eccolo qua Quando il tuo scudo si esaurisce ripristina il recupero di onda d'urto L'uso successivo di onda d'urto costerà zero di energia L'effetto si può verificare una volta ogni 12 secondi Però in sostanza comunque un eroe soldato che busta l'onda d'urto Molto interessante anche utilizzato come primario secondo me E sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 23 maggio alle 2 Ora italiana fino al 20 giugno Ragazzi rullo di tamburi finalmente lo schioppo è tornato Mostra agli abietti la potenza dello schioppo Questo fucile ad avancarica sprigiona una potente raffica di colpi Sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 23 maggio alle 2 Ora italiana e dice fino al 20 giugno alle 2 Qui le cose sono due O è giusto e quindi hanno messo lo schioppo veramente nel negozio evento Oppure sbagliata la descrizione lo metteranno nello shop settimanale e durerà una settimana Mi raccomando raga fate bene attenzione il giorno stesso che uscirà prima che poi lo perderete Mettetevi già da parte l'oro visto che comunque manca ancora una settimana E così starete tranquilli quando uscirà in sostanza Aggiornamento contenuto salva il mondo versione 12.60 Abbiamo un altro nuovo eroe Ken filibustiere pronto al saccheggio Prenderò tutto il tuo oro e i tuoi materiali da creazione Il suo vantaggio standard Nebbia marina il fumogeno ripristina integralmente gli scudi Mentre il suo vantaggio comandante Nebbia marina più il fumogeno ripristina integralmente gli scudi E congela i nemici per 5,5 secondi all'attivazione E sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 30 maggio alle 2 Ora italiana fino al 20 giugno Qui raga finalmente abbiamo comunque una nuova perk molto sfruttabile in molte situazioni Sia la perk dello scudo Molti utilizzano il fumogeno già per curarsi la vita In questo caso sarà possibile ripristinare anche lo scudo ulteriormente E in più se usato come primario Ha la possibilità di congelare i nemici per 5,5 secondi all'attivazione Quindi solamente nel momento in cui l'attiviamo Cioè nei primi secondi mi viene da ipotizzare O meglio secondo me non funziona se il fumogeno diciamo colpisce uno zombie dopo 8 secondi Per esempio lancio il fumogeno Lo zombie ci passa che ne so dopo 2-3 secondi addosso Visto che il fumogeno comunque resta per un tot di tempo nell'aria E in quel caso mi viene da supporre che non lo congelerà Ma questo poi lo vedremo con calma appena uscirà l'eroe e ci faremo un bel video E il rapporto di stato per oggi finisce qua Ci hanno spoilerato più o meno cosa succederà fino al 20 giugno A quanto possiamo capire comunque non cambieranno ancora i lama Non metteranno altri set altre cose Comunque c'è già tutto quello di cui abbiamo bisogno finora Probabilmente eroi come quelli dinosauro Piuttosto che quelli musicali però sono ancora più là Fermiamoci un attimo a quelli dinosauro Probabilmente verranno con la nuova stagione Però questo poi ovviamente lo vedremo piano piano Che il tempo trascorrerà e la Epic ci darà notizia in merito Io ragazzi per oggi faccio finire il video qui Non posso fare altro che ricordarvi di lasciare solo un bel like sotto questo video Eh sì se vi state chiedendo perché in questi giorni sono stato inattivo È perché stavo pubblicando un video veramente particolare Che doveva uscire ieri Ieri rispetto a quando guardate questo video Sì quindi è giusto Però purtroppo per problemi di copyright e problemi di musica Ho dovuto cancellare il video Rieditarlo, cambiare un po' la musica che ho utilizzato Riesportarlo e poi ricaricarlo Che sono comunque più o meno 30 giga di video Arriverà nei prossimi giorni Quindi aspettatevi un bel video di quelli lunghi Io per oggi non posso fare altro che salutarvi Vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore Per farlo vi basta inserire KinoTV nel item shop di Fortnite E per oggi è tutto Noi ci vediamo col prossimo episodio Bella Bella Ciao 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 Ciao